La Roma trova l'accordo per la doppia cessione e ottiene una plusvalenza totale, arrivano i soldi per Solé. Ormai manca solo l'ufficialità, Hussein Mawar è pronto a diventare un nuovo giocatore della Litiad. Il centrocampista algerino lascerà la capitale dopo una sola stagione per approdare in Arabia Saudita alla corte di Laurent Blanc, che lo ha avuto anche a Lione. In Arabia. A fare le valigie anche Ian Oliveras, terzino sinistro spagnolo della primavera giallorossa. Secondo Futmercato l'intesa è stata totalmente raggiunta sulla base di 15 milioni di euro più bonus, da quest'anno infatti il campionato arabo cambia regole, possono essere 10 i giocatori stranieri in rosa per un club, ma due devono essere nati dopo il 1 gennaio 2003, ecco quindi l'accordo per Oliveras, terzino spagnolo che approderà in giallo-nero. La Roma ricaverà dunque un tesoretto prezioso. Una plus valenza totale che potrebbe essere utilizzata sul mercato. I giallorossi sono a caccia di rinforzi e uno dei nomi preferiti è quello di Matthias Solé, la Roma sta guardando con attenzione in casa Juve, piacciono l'argentino e Federico Chiesa. L'argentino ha una valutazione più alta, ma piace tantissimo. Il grande ostacolo, oltre al prezzo, è la concorrenza dell'Ester. D'altro canto però la Roma potrebbe ricevere un grosso aiuto da questa doppia cessione in terra saudita e lanciare l'assalto al talentuoso argentino della Juventus.